Qual è lo stato di salute e velocemente del movimento diventerà bellissima? Guardi, è un movimento civico trasversale che sta avendo tantissime adessioni di tutti i colori politici e li sta avendo sulla spinta di creare un'alternativa di governo credibile al disastro che ci sta lasciando Crocetta. Crocetta è stato eletto quattro anni fa con un blef, lui si è detto rivoluzionario. Ha illuso la gente che fosse il novello cechevara quando è arrivato a Palazzo d'Orland e d'Orland ha fatto politica con i trasformisti, i cambi casacca, i peggiori della politica. Questo tra l'altro ha creato immobilismo perché è anche lui della politica del non fare, è la stessa teoria che abbiamo a Roma la raggi, noi in Sicilia l'abbiamo già vissuta con il nostro grillino Crocetta che infatti i primi anni era anche appoggiato dai grillini nelle sue azioni. E' la politica del non fare, lui sta disperdendo fondi europei, lui non sta facendo riforme, lui non sta facendo nulla che possa aiutare questa Sicilia a rimettersi in cammino. Anzi, lo ha bloccato totalmente e oggi siamo costretti a vedere i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri fratelli, a riprendere le valigie come si era fatto tantissimi anni fa e andare via. Perché i fondi che sono destinati, finché i fondi che sono destinati ai nostri ragazzi vengono utilizzati come sta facendo Crocetta con garanzia giovani per coprire i buchi che crea per gli errori giudiziari e le condanne al TAR, perché con delibera di giunta hanno utilizzato questi fondi per compensare le condanne al TAR, come se non avremo speranza. Quindi noi stiamo cercando di costruire un'alternativa, lo facciamo con tutta la serietà, la credibilità che possiamo e lo facciamo anche ascoltando i cittadini siciliani, perché noi non scriveremo il nostro programma elettorale nel chiuso di una stanza, noi stiamo facendo le feste delle idee, noi stiamo girando tutte le province raccogliendo le idee dei siciliani, delle eccellenze, dei giovani e queste loro idee, con il loro nome e cognome, le più votate, quelle che piaceranno di più, saranno inserite nel nostro programma di governo. La cosa bella, che non solo ci fermeremo qui, ma se un giorno saremo al governo, quando quell'idea diventerà disegno di legge, chi l'ha avuta sarà con noi in conferenza stampa, quindi seguirà il percorso da programma elettorale ad azione di governo. Questo è quello che noi pensiamo sia la democrazia partecipata, è quello che noi vorremmo fare insieme ai siciliani, perché per rimettere in sesto questa Sicilia c'è bisogno dello sforzo di tutti, non illudiamoci che arrivi il genio dalla lampada che può risolvere tutto, ci vuole l'impegno della migliore classe dirigente, l'impegno politico anche di chi, come me, la volta scorsa si è tenuta a casa, perché io sono tra quelli colpevoli che nelle scorse elezioni regionali non ha votato e non ha fatto nulla, disgustata alla politica, stanca, delusa, amareggiata, perché la politica effettivamente ha prestato il fianco, i partiti tradizionali hanno deluso tutti, anche un appassionato come me, ma non andare a votare la volta scorsa, che cosa ha comportato? Che altri decidessero per me e chi ha deciso per me purtroppo non ha scelto il meglio, perché ha scelto Crocetta, ebbene io questa possibilità non la darò più agli altri, ma farò in modo di essere determinante col mio sforzo, con le mie idee, con la mia faccia, perché la prossima scelta di governo sia una scelta responsabile e seria che possa risollevare questa terra, e allora forse sì, diventerà bellissima.